Con un po' di ritardo vi parlo anche di questo Il Potere del Cane. Uscita su Netflix in realtà già da un po', inizio dicembre, allora perché me ne sto parlando dopo quasi un mese? Soprattutto perché l'ho recuperato adesso. E poi perché questo film sta facendo parlare soprattutto gli addetti ai lavori, perché ha ricevuto molteplici nomination ai Golden Globe, ai prossimi Golden Globe. Quindi mi aveva interessato, no? L'attenzione comunque se l'era richiamata. Ebbene, l'ho visto e devo dire che ci troviamo davanti a un film, dirò qualche cliché adesso, non per tutti. È un film molto particolare, è un film sottile, che gioca molto sulla caratterizzazione dei personaggi, sulle dinamiche che legano i vari personaggi. Gioca molto sull'introspezione, sull'utilizzo della regia per far risaltare l'introspezione dei singoli personaggi. È un film che merita tanta attenzione, non solo per ciò che sta riscuotendo, o per il clamore che sta riscuotendo, ma proprio per vederlo, per capire tutto ciò che c'è dietro la scrittura di Jane Campion, che sia la regista che la sceneggiatrice del film. Di cosa racconta? Racconta di questa donna e di questo ragazzo giovane, femminato, che vivono negli anni venti, in un periodo in cui il vecchio West sta scomparendo e quindi sta subentrando una civiltà più modernizzata. e in questo contesto ci sono altri due personaggi, uno interpretato da Jesse Plemons, che ormai lo ritroviamo spesso in questi film molto particolari, lo avevamo visto anche in Sto pensando di finirla qui, anche quello è un film non per tutti, esattamente come questo, e che il suo personaggio sposerà questa donna che è vedova e la porterà a vivere con sé nel suo ranch, dove vive però con il suo fratello, che è un personaggio interpretato da Camberbatch, che è un personaggio che appunto rappresenta tutto ciò che sta scomparendo, cioè il vecchio West, quindi la durezza che dovrebbero avere i cowboy del vecchio West, una durezza che in realtà è solamente una facciata, una facciata che nasconde l'introspezione di questo personaggio, che dall'essere, almeno inizialmente, un personaggio estremamente duro, quasi cattivo, diventerà invece il personaggio quasi vittima della situazione, di una situazione che si verrà a creare grazie a una scrittura molto sottile della Campion, che mi ha ricordato molto le sceneggiature di Paul Thomas Anderson, mi ha ricordato molto i film di Anderson, e che alla fine andrà quasi a capovolgere quella che era la situazione iniziale del film. Tra l'altro è un film che è girato in maniera, anche lì, elegante, in maniera sottile, in maniera che apparentemente, con una regia che è poco appunto, poco appariscente, ma che riesce a far risaltare le giuste introspezioni, riesce a far risaltare le dinamiche tra i personaggi, che poi avranno appunto un'utilità all'interno della trama. È una regia sobria, ma giusta, che inserisce i personaggi, tra l'altro, in questi ambienti molto grandi, in questi spazi molto vasti, quasi a volerli isolare nella loro solitudine, e quindi questi personaggi trovano poi la, diciamo, conforto nelle relazioni, nelle dinamiche che si vengono a creare tra di loro. È un personaggio che gioca molto sull'interpretazione, è un film, è una regia che investe molto nelle interpretazioni degli attori. Abbiamo un Camberbatch, ragazzi, ai massimi livelli, è uno splendore questo attore, è un attore che è in grado di fare qualsiasi ruolo, e in questo caso l'ha dimostrato, un ruolo che io direi, cioè che apparentemente non sarebbe adatto a un attore come lui, e che lui è riuscito a interpretare nel migliore dei modi. Questo è veramente un attore incredibile. Infatti, sia lui, ma anche gli altri attori, anche la Kirsten Dunst, nei panni della vedova, della madre di questo ragazzo che sposa appunto il personaggio Jesse Plemons, anche lei è stata bravissima. Infatti sono stati entrambi nominati Golden Globe, così come è stata nominata la regia, che come ho detto è elegante, sottile, modesta, ma funzionale per quello che il film ci vuole dire. Così come è stata nominata appunto il Camberbatch, che secondo me dovrà vincere qualcosa, perché un attore del genere è veramente straordinario. Insomma, per me è un film che merita assolutamente la visione, se vi piacciono questo genere di film. Io però, diciamo, vi avviso, non è un film facile da, non da comprendere, non è un film facile da digerire, da metabolizzare, da assorbire. Bisogna stare molto attenti durante la visione, bisogna cercare di stare attenti a ciò che l'autore, quindi la Campion, ha voluto comunicare tramite il film e tramite soprattutto i suoi personaggi, perché sono dei personaggi scritti benissimo, con un'introspezione incredibile, ma sono dei personaggi estremamente impliciti, quindi che comunicano tanto, ma in modo poco esplicito, quindi tendono a parlare con gli sguardi, con i gesti, con i piccoli gesti. È una regia, quindi, che cerca di far risaltare quei gesti, quegli sguardi, per far arrivare il messaggio di ogni personaggio allo spettatore. Quindi per questo vi dico, non è un film per tutti, è un film che richiede tanta attenzione, sia da appunto di vista, quando lo andrete a guardare, sia appunto per ciò che sta discutendo, perché è un film che sicuramente vedremo, appunto, ritroveremo ai Golden Globe, ha ricevuto tantissime nomination, e ne vincerà sicuramente non poche, e ritroveremo probabilmente anche agli Oscar. Sia probabilmente ritroveremo agli Oscar la sceneggiatura, ma probabilmente anche la regia, e sono sicuro gli attori, uno o più degli attori verranno nominati agli Oscar, quasi sicuramente Camberbatch verrà nominato. Sì, quasi sicuramente. Detto questo, la mia votazione finale è 7,5, perché è comunque un film che ha determinati limiti, dovuti proprio alla sua qualità, quindi non posso andare oltre personalmente il 7,5, anche perché in certi momenti il film sembra che non abbia uno scopo, che non abbia un obiettivo, che non abbia una meta, e allora per comprendere ciò che il film ti vuole dire, ti vuole il messaggio che ti vuole mandare, devi effettivamente arrivare alla fine. Fino a quel momento tu puoi avere difficoltà effettivamente nel capire dove il film vuoi andare a parare, e questo a mio parere è comunque un piccolo limite del film. Detto questo, io vi saluto, alla prossima, ciao! 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 Ciao!